Aspetta aspetta! Posso spaccare i letti, me ne sono dimenticata completamente! Una, due, tre, cinque volte vedete! Magari c'è qualcosa potente! No, non c'era tutto! Nell'altra stanza c'erano anche i letti! Ma perché non mi è venuta in mente subito? Vabbè, io però le monete le prendo! Quanto credo! Ma non credo! Io adesso arrivo qui e sparco i letti! Dobbiamo salire subito sul ponte! No, prima le ho spaccati i letti! Quanto fa gli ricordi delle cose? Ah, anche da pesciare alle ore 17? Quando me lo ricordavo, vabbè vabbè! Quindi gli unici che c'hanno a livello basso è... Per l'unico è... Poi sbattli, perché gli altri sono 17, 17... Due sono 20, due sono 17! Che fate! Oh no! No! Ah, cangaratto! Oddio, che brutto! Allora, questi qua bisogna aspettare che si buttino! E poi gli ammazziamo la coda, ecco! Perché no, loro si incassa con la coda, ecco! Ah, si chiama il cangaratto! Ok, allora, perché abbiamo scoperto... Abbiamo scoperto... Abbiamo scoperto il ginello che mi ricordi di schiavo Abbiamo scoperto le pistele neroze Ma se si chiama... I cangaratti! Quanti li abbiamo scoperto giunto? Allora! Siamo qui in loco ancora! Adesso è già pronto! Del gioco! Checkpoint! Un'altra aeronave e avrai finito! Serve uno Skylander della tecnica! Allora, già che ci sono, metto... Invece di sparare, ci metto questo qui... Che è uno degli Skylander piccolini... Che non abbiamo ancora usato... Che si chiama... Vediamo... Windup! Che significa letteralmente ricarica! Allora... Windup! E' carico... Lo vuole che sono da Windup! Allora... Con quadrato... Facciamo i nostri attacchi... E come vedete... Ci scarichiamo dopo un po'... E per incaricare... Che cosa fa? Cerchio! E con cerchio... Se siamo carichi... Facciamo una ruota... Appunto... E con triangolo... Continuiamo... Facciamo un accidente però... La cosa carinissima di questa personata... E' proprio il punto che ci ricarichiamo... Ci dobbiamo ricaricare... Proprio come una molla... Proprio Windup... 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 Si... Si... Tengo Windup... Che carina poi... Si... Non può proprio ho visto il campo... Però... Una parola... oh ma è un tesoro oh vabbè per tutti ci riesce a dare allora molto bene allora tutti i cappelli sono andate a puttano ora già con lo tic tac gira la chiavetta ok ho spaccato tutto però mi farò andare giù c'è qualcosa che di qua non è nessuna cosa... no aspetta no era la porta normale ah guarda guarda il porto è anche proprio la tecnica di su qui questa zona allora vediamo quel che cosa donna carica madonna santa quind up devo avere carica è tutto qui proprio perfettamente per gioco a carica è così da dipingenti vabbè una armata un gioco un tutto caricato wind up allora ci teniamo wind up adesso poi diamo per esempio un colpo a molla che scrive nemici in aria guarda che dice che non c'è il friggiato ma devi mettere i danni critici e ci fanno il terzo non posso più prendere niente perchè non ho 154 mollettici ne ho 164 passa vediamo l'attacco molla ah ti ho proprio le molle bam 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 se vuoi caricare continuamente dai fatti dai fatti ti ho appenso 10.000 galloni no 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 ok fatto abbiamo preso anche questa mano bellina uh come ho fatto a scrivere non lo so sono fatti i normoti mi spiace ma tengo wind up perchè i normoti qui non ce le ho le serie di swap fox se pecamela vai se la pecamela oh normale cappello di vetro per un breve periodo di tempo nelle skylands furoreggiarono i cappelli fatti interamente di vetro al punto che il re del deserto dissipò la propria fortuna per costruirne l'esemplare più grande che si fosse mai visto dopo alcuni sfortunati incidenti i cappelli di vetro vennero dichiarati illegali e banditi dalle skylands ma quello di forra delle fauci di perro è ancora niente non l'ho ancora visto non l'ho ancora visto poi vediamo ci sono dentro dopo aver vedere se la vedete qui no questo è dentro i 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 e i i i s silenzioso ma letale silenzioso ma letale oh eccoci qui e ci sono i fuori sartellini molto sartellini ma la partita da solo c'è un vortice dare sicuramente mi riguarda tutti i partita quindi io col cavolo del no oltre a musica meno male che c'è l'ombra che mi aiuta voglio aspettare perché io di là voglio vabbè dai dopo lo vedete vabbè invece c'è un vortice oh ho già fatto uovo veale missione bonus guarda com'è alza la testa per guardare la porca la porca ok ecco voglio wind up c'è un'altra cosa da puttana no no a vero che mette il caccio posso farlo qui e smetterla e fatto esplodere le moglie allora qui non abito a testa sport io non ce l'ho per finisci ma vita teta sport di sicuro perché tutte le bifiche non ce l'ho che è uccinto ok 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 oh bevono tutti i polizieri scoperta appunto un'altra cosa è sta roba allora bozziate oggi anch'io oh si sto a risultato perché si ricerca un pochino quando vogliamo qua oh oh una sottetto una sottetto e non devi dare grilla drilla questo c'è la vita scavo aiezione evo c'è la vita anche con Bile ma chiamavano che ho chiamato la quinta è rileva con Bile ma chiamato la cura di crema ah la perfumatura dalle famiglie e famiglia dov'è? ah qui non va non la fai mai detto, l'idea più geniale del mondo aspetta boh, allora mi sento che tutti fanno gli arote contro il succedito mi sento che io faccio gli arote contro io adesso io quando faccio gli arote contro loro faccio la loro stessa moneta guarda faccio il domino, il domino, il domino muo' è bastardo è bastardo fino all'ultimo squadro io vi aiuterò spacchiamo l'ultima aeronave a far bene i pirati del cielo ma perchè alla fine erano veramente dei pirati del cielo è, è, sta in aria regolabile e pirati del cielo è, non non insultati ah, pirati forzieri, ecco che cos'è questa stellina allora voglio vedere un attimo come non l'abbè trovata la zaffirata non l'abbè trovata tre cappelli non l'abbè trovata le hai scoperte ne ho mancata una le giame aeriche ne hanno usate due le giame dell'anima e sicuramente zaffirata i cappelli le storie delle aeriche non avevano potute fare quindi le aeriche delle cose misto e le due aeriche non avevano potute fare perché non avevano l'abilità molto